Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Siamo di nuovo qui con Little Nightmares Sono riuscita a scoprire come si va avanti Ok, lo ammetto, ho guardato un attimino di gameplay di Favij Ma, giuro, giuro, non sapevo che lui l'avesse portato Giuro, non ho visto nient'altro, solamente come andare avanti In questo pezzo io direi Sigla, mentre Klaus mi morde Sigla, iniziamo E' bella capire me Premi A Klaus Gioca col tuo gioco Riprendi partita Klaus, basta Basta Au Ok, eravamo qui Si è addormentata C'era sempre la persona qua Devo spostare la sedia e metterla di là Per passare attraverso la porta Spingilo ancora un po' Non si, spingi ancora un po' Vai Ok È davvero sempre molto tetra la situazione Ok, ho scoperto che devo arrampicarmi nel frigorifero Il frigorifero dove ci sono le scarpe Ecco, esatto Così E andare lì sopra Cioè, io non ci sarei mai arrivata L'ammetto Oddio Oddio Che cazzo è? Ah Oddio Dove sono? Via, via, via Accendiamo la luce Alla Suena un altro Non no Esquipo che si moria OOOH Taaack teniamo acceso il fiammifero che ancora non mi spiego come una bambina possa non avere niente ma solo un fiammifero ole oddio no io ora come faccio oddio corri 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 mi ha preso la stone non è l'ansia ma io voglio tornare su ora oddio come faccio sono ovunque questi cosi ecco ah lì c'è la porta devo arrivare lì eh no è qua il checkpoint porca bestia ho capito anche che se io tengo spenta la luce loro oddio loro no loro non mi vedono però io non vedo loro comunque attenta 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 salta ok ora mi devo arrampicare qua immagino che spavento madonna eh qui dove vado devo andare di qua massimo cado giù ancora devo andare su che ansia che ansia guarda adesso già che non mi sbocca a volte perché è quasi buio guardate quanto luce guardate quanto luce è bloccato ok aspetta dobbiamo portare qualcosa che lo blocchi klaus no la cuffia guarda sono segnale sedenti devo bloccarlo qualcosa lì ho salvato qualcosa ti hai provato x per scattare ma non mi serve scattare vedi apri quella porta da lì dai 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 no devo correre di là ho capito ok ho capito carri 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 io volevo incastrare la manovella così almeno ce l'ho fatta dobbiamo passare qui sotto raga ce l'ho fatta ce l'ho fatta sono felice per questo coso perchè si sta allargando la visuale oddio che cos'è quel coso là e ovviamente io devo andare su certo madonna non ci voglio andare fai piano un topo c'è della roba qui au claus basta claus ma perchè accendiamo qui non l'avevo vista ok mi sa che devo trovare un altro modo per andare al di là perchè c'è la corrente lì c'è la corrente quindi immagino che io debba staccare la corrente guardate c'è la corrente cioè tipo lassù guardati intorno a zander rossi aspettate chiudi un attimo la porta amica tac tac sì come ci arrivo là sopra tac che genio rada che genio ho anche il tempo muoviti ok ci sono delle altalene dai non posso arrampicarmi sotto l'altalena ok anche qua devo staccare la corrente immagino che però chissà dov'è è la messa con la di quando riesco a salire ok è anche qui mi sa che è quello là il pulsante ah io devo passare in tutti e due il più velocemente possibile e mamma non posso tornare indietro aspetta questa la posso spostare no come è possibile che ogni volta che gioco le batterie del controller sono scariche scusate vuoi accendere sto pianifero ah io posso passare di qua dai corri corri e mamma un colentro quante cavolo di porte ci sono vabbè io ho avuto di qua oh oh cosa è successo raga se volete sapere come va a finire mi raccomando restate connessi tutti i martedì sul mio canale ci sarà l'Itternarmers lasciate un like e commentate e seguitemi su social noi ci vediamo al prossimo video ciao Grazie a tutti.